Bentornati, siamo qui ancora al Climate Festival, siamo qui con Anna del progetto Sensing for Justice. Ciao Anna! Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti e insomma mi fa piacere essere qui e soprattutto essere circondata da verde, da persone entusiaste, quindi è un'ottima giornata. Io qui rappresento il progetto Sensing for Justice, che vuol dire monitorare per la giustizia, la giustizia ambientale e climatica e l'idea è che ognuno di noi nel quotidiano può essere una sentinella di un ambiente che soffre. Prendiamo il caso delle comunità che monitorano per esempio il petrolio e uno dei nostri casi studi è proprio la Basilicata, dove si sa poco ma si estrae tantissimo petrolio e è un business europeo e gli impatti del petrolio sulle persone e sugli animali sono molto impegnativi, molto forti e noi cerchiamo di capire come queste persone comuni raccolgono delle prove che poi possono essere utilizzate in tribunale per esigere giustizia ambientale. Bellissimo progetto! E quindi appunto siete solo della Basilicata, trattati? No, noi il progetto è ospitato al Centro di Ricerca Europeo sul Lago Maggiore a Ispra e ha diciamo un respiro mondiale, globale se vogliamo, infatti uno dei nostri casi è in Texas e infatti qui potete vedere una pescatrice che raccoglie particelle di plastica e sono riusciti a portare questa azienda petrolchimica in tribunale proprio per l'impatto che lo sversamento petrolchimico ha avuto in questa baia del Texas. Dall'altra parte per esempio vedete un ragazzo che monitora le radiazioni e con questo progetto per esempio siamo andati a Fukushima in Giappone, quindi come dire le sentinelle sono in tutto il mondo e cercano di col loro piccolo farsi ascoltare. Ecco, per noi è importante anche motivare le persone e farlo anche per esempio attraverso l'arte, quindi coinvolgendo artisti, in questo caso un'artista brasiliana, questa artista del fumetto invece è con Extinction Rebellion, insomma artisti e artiste che vogliono mettersi in gioco per raccontare questo tema. E come mai avete scelto il Team at Festival? Perché noi crediamo che queste ricerche che sono, se vogliamo, scientifiche, e quindi in un ambiente potenzialmente chiuso devono arrivare alle persone comuni e ci arrivano anche attraverso una persona che passeggia, si ferma e si incuriosisce. E infatti questa mattina abbiamo organizzato un momento di disegno con dei bambini che hanno rappresentato come immaginano essere delle sentinelle, quindi c'è chi ha rappresentato se stesso con una lente di ingrandimento, o chi con una macchina fotografica, e insomma anche il disegno può avvicinare e farci immaginare come vorremmo monitorare il nostro ambiente. E adesso alle tre ci sarà una camminata sensoriale in cui partendo da qui percorreremo l'ambiente circostante cercando di pensare a quali diritti entrano in gioco nel momento in cui diventiamo sentinelle del territorio. E cosa si prova ad essere appunto una sentinella del territorio che è una missione molto importante per tutti a livello sociale? Allora sicuramente si prova una grande responsabilità perché ci si fa carico anche di necessità altrui, delle paure degli altri. Sicuramente è importante un dovere civico e anche un dovere poi denunciare quello che si scopre. A volte ci si sente soli, infatti molte delle sentinelle si sono sentite sole. Volevo mostrarvi queste, diciamo, delle riprese, delle interviste che abbiamo fatto con le sentinelle in Basilicata. E infatti qui vedete proprio i volti delle persone che ci hanno raccontato, per esempio lei è una allevatrice, un medico, un'attivista di Libera e un contadino, una pastora, e tutti ci hanno raccontato un pezzetto della storia. Quindi chi ci ha trasmesso il ruolo che può avere un medico nel valutare gli impatti del petrolio sulle persone, che ci ha raccontato delle morie degli animali e dell'impatto che questo può avere su una vita quotidiana. E attraverso le loro voci noi raccontiamo quello che è il potenziale di essere una sentinella. Quindi ci mettiamo sempre la faccia e loro ci mettono la faccia proprio perché la sentono come un dovere civico, però anche un'opportunità. E avete in mente altri progetti per il Climate Festival? Allora, con una rete di avvocati per l'ambiente, di avvocati ambientalisti, saremo domenica con l'associazione Sistasis, centro studi per la mediazione dei conflitti ambientali, e ci troveremo qui la domenica pomeriggio per una tavola rotonda sugli allevamenti intensivi. Quindi sarà interessante anche andare in un altro ambito e forse parlare a un pubblico diverso rispetto a quello che, diciamo, coinvolgiamo qui. Quindi ci saremo. Beh, un progetto meraviglioso direi. Grazie mille, Anna. Hai qualcos'altro da aggiungere? Spero che arriverà tanta gente con tanto entusiasmo e che continueranno a, insomma, a incuriosirsi, ecco. Esatto. Quindi alle tre inizia la passeggiata. Assolutamente. Ok, vi aspettiamo qui. Grazie a tutti.